Buongiorno, io ho sentito che Klaus Mechelé farà un concerto alla Cavia il 8 di settembre con un pezzo di Sibelius, si chiama Tapiola, che sarà per la prima volta a Firenze e la prima di Mahler. Io ho sentito dappertutto che questo giovane direttore ha un grandissimo talento. Per favore, venite alla Cavia, sentirlo, interpretare Sibelius e Mahler. Grazie. Grazie.